Mare per tutti a Montesilvano, spiaggia sezza in barriere da questa mattina, un nuovo tratto accessibile alle persone con disabilità. Questa è la seconda spiaggia che mettiamo a disposizione per tutti, perché direi per i disabili credo che sia riduttivo per tutti, in maniera che tutti possano non solo raggiungere la spiaggia ma anche potersi fare il bagno attraverso le sedie job. Questo è un momento di fondamentale importanza perché è lo sfondamento di molte barriere mentali soprattutto e di barriere che ne ho dovute aprire e rompere anche all'interno della mia amministrazione perché c'è ancora qualcuno che non è sensibile a certe tematiche. Io mi auguro che Montesilvano sia un po' da apripista ma non perché debba essere motivo di orgoglio per me o per la mia amministrazione ma affinché veramente questo mondo sia capito e conosciuto e non ghettizzato come è stato finora. Anche perché per risolvere grandi problemi, abbattere grandi barriere basta avere un occhio diverso, magari come quello di Claudio Ferrante che avete in amministrazione. Sì, io penso che Claudio sia una risorsa per la nostra amministrazione perché dà un taglio alle cose proprio dal suo punto di vista e quindi ci permette a noi che l'ascoltiamo di eseguire i suoi consigli. 57 metri di passerelle cementizie removibili, una piazzola di stazionamento con tre palme, i passamano per persone non vedenti e i bagni chimici accessibili. Inoltre nell'area esterna cinque parcheggi riservati ai disabili insieme ad altri privi di barriere architettoniche, scivoli colorati con l'eliminazione dei gradini e la sistemazione dei marciapiedi, attraversamento pedonale a norma. Il modello Montesilvano è seguito con grande interesse dalla regione Abruzzo che da qualche tempo nei confronti di disabilità e barriere architettoniche da abbattere, sta trovando un'adeguata e opportuna attenzione e sensibilità. Io ho avuto modo insieme a loro di fare un'esperienza un giorno qui a Pescara e mi sono reso conto che effettivamente le difficoltà e i disagi sono ancora molti e quindi credo l'attenzione però non significa soltanto porsi visibilmente come attenzione rispetto al problema, ma poi risolverlo anche attraverso ovviamente interventi finanziari perché purtroppo i soldi non riusciamo a risolvere i problemi.